Discreto, austero, nessuna appartenenza politica dichiarata, Mario Monti è un europeista convinto. Nato a Varese nel 1943, si laurea in Economia e Commercia all'Università Bocconi di Milano, poi completa la sua formazione a Yale negli Stati Uniti studiando con James Tobin, futuro premio Nobel per l'economia e ideatore della famosa tassa sulle transazioni finanziarie. A livello europeo è conosciuto soprattutto per i suoi dieci anni trascorsi a Bruxelles, tra il 1999 e il 2004 al fianco di Romano Prodi è commissario alla concorrenza. Grazie a lui Bruxelles avvia e vince un procedimento contro Microsoft per aver violato le norme antitrust. Tra il 1995 e il 99 era già stato commissario europeo, questa volta per il mercato interno, nella commissione presieduta dal lussemburghese Jacques Santerre. Secondo questo analista è l'uomo giusto per l'Italia. È d'acciaio, determinato, pacato, persuasivo. È l'ultimo dei negoziatori. Se si vuole è davvero un uomo di Davos, è membro di tutti quegli ambienti ristretti in cui le elite mondiali che detengono il potere si incontrano ed è molto considerato. In effetti Mario Monti ricopre anche l'incarico di International Advisor di Goldman Sachs. È presidente della Bocconi, presidente onorario di Bruegel, il think tank europeo che ha lanciato nel 2005 ed è membro del gruppo di riflessione sul futuro dell'Europa, creato dal Consiglio europeo e presieduto da Felipe Gonzalez.